Qualcuno ha pensato che io avrei detto obbedisco? Io dico invece a voce chiara, testa alta, ti disobbedisco! Ma voi che avete fatto intanto? Come vi siete voi ordinati, disposti alla lotta? Mi sembra che voi non aspiriate se non al premio della pazienza. Ma è proprio necessario che il nostro pane quotidiano sia a zeppo di vermi? Masticatelo, se vi piace! Tornate a casa, mettete la testa fra i confuscini e mandateli una buona volta al diavolo. Io preferisco la famiglia. Disobbedisco!